Secondo l'ANAS, la voragine nell'asfalto apertasi ieri sulla bretella della Teramo Mare al confine tra Notaresco e Mociano è stata creata a seguito dei lavori su una conduttura idrica sottostante eseguiti dalla Ruzzoreti. Dunque per i tecnici sembrerebbe stata questa la dinamica che ha portato il cedimento del piano stradale appena riasfaltato, che ha mandato in tilt il traffico dalla mattina di ieri fino alle 18 a causa della chiusura del tratto che come conseguenza ha portato sulla superstrada in direzione Mare uscito obbligatorio a Bellante e direzione Tenamo l'utilizzo della Stata L'Ottanta, una responsabilità su cui la società acquedottistica Teramana non si è tirata indietro, riconoscendo quanto riscontrato dall'ANAS. Noi abbiamo effettuato dei lavori giovedì scorso, dei lavori propedeutici a una realizzazione importante di un collettore forniario che segue l'asta fluviale del Tordino e ci consentirà di dismettere tutta una serie di piccoli depuratori nell'Interland di Mociano. È giovedì con tecniche e tecnologie a regola d'arte, abbiamo attraversato questa sede stradale con una macchina a spingitubo e dopo qualche giorno la sede stradale, oggetto dell'intervento, in una porzione ha ceduto. Quindi il nesso causale sembrerebbe identificato e non abbiamo motivi per non ammettere quello che è successo. Una criticità su cui la società Ruzzoreti è immediatamente intervenuta per risolvere il problema, ripristinandola a carreggiata in tempi record. L'immediato intervento a nostra cura e spese, con la stessa ditta che aveva effettuato i lavori giovedì scorso, ieri intorno a mezzogiorno e mezzo siamo intervenuti e a cura e spese della ditta è stato ripristinato nel giro di 4 ore, 5 ore. L'intera carreggiata è stata ripristinata, quindi l'ANAS che ha supervisionato i lavori ci ha chiesto di rifare non solo la parte che aveva ceduto ma anche la parte dell'altra carreggiata che in quel momento non presentava vizi ma proprio in un'ottica cautelativa è stata rifatta totalmente la carreggiata. Quindi ora la situazione è assolutamente sotto controllo? Assolutamente sì, la situazione era già sotto controllo nella serata di ieri perché ripeto il fatto è successo intorno a mezzogiorno, intorno alle 17.30-18 i lavori erano pressoché ultimati.